Io sono qua perché la laicità è uno dei problemi di questo paese. Insieme a tante donne ho lavorato molto per avere la legge 194 che forse voi conoscete e adesso che faccio la ginecologa faccio fatica a applicare la legge 194. Io sono abbastanza vecchia, come dico sempre, per aver visto cos'erano gli aborti clandestini e adesso che sono vecchia vedo ragazze che comprano su internet le pastiglie per abortire a casa. La 194 è un problema, in Lombardia lo è un po' meno, in molti paesi d'Italia è impossibile fare l'interruzione di gravidanza. L'obiezione di coscienza che non è solo per il medico e non dovrebbe essere per gli ospedali, nessuno ha mai pensato e ha mai obbligato un ospedale ad applicarla, è un diritto delle persone, è un diritto riconosciuto, è un diritto che le donne hanno. Nella legge 194 c'è il diritto dei consultori di cui parleremo dopo, che anche quello va sparendo. C'è il diritto, come dicevano i giovani prima, dell'educazione sessuale nelle scuole, che non si fa più. La sessualità è un problema in questo paese. Il compromesso storico che è stato fatto tanti anni fa per cercare di fare una legge decente, adesso questa legge viene interpretata in modi completamente diversi. Sono stati accreditati i centri di aiuto alla vita, che la regione Lombardia, non so se lo sapete, paga. Sono stati accreditati, volevano mettere i pedagogisti, i movimenti della vita nei consultori. La 194 è un diritto, è un diritto per interrompere la gravidanza e anche un diritto per non interrompere la gravidanza. È un diritto avere una contraccezione gratuita, per cui noi avevamo lottato tanti anni fa. La 194 nel 2006 voleva essere abrogata e con Susanna Camusso e molte altre. Abbiamo cercato di mantenerla perché è un diritto che le donne hanno, è un diritto che devono avere per non dover morire. Certo, è un diritto che abbiamo difeso con le unghie e con i denti, come un altro diritto che la legge 194 prevede, quella ha una libera informazione sui contraccettivi, anche se dal 1975 non c'è più la famigerata legge contro la razza, oggi è un diritto che rischia di non essere garantito. Le donne italiane, in tutte le statistiche europee e mondiali, sono all'ultimo livello, al sedicesimo posto per informazione e utilizzo dei contraccettivi. Questo su questo pesa moltissimo la decisione della regione Lombardia di impedire ai consultori direttamente di andare a fare educazione sessuale. Un diritto che abbiamo visto gli universitari rivendicare di nuovo, come rivendicavo io all'età di 20 anni. È un diritto talmente negato per cui nelle specializzazioni di ginecologia, non vengono, se non considerati una volta l'anno, un giorno formativo di aggiornamento. Non viene insegnato come non veniva insegnato allora a una ginecologa, a un ginecologo, inserire lo IUD, che non viene data informazione sulla famosa spirale, come non vengono date corrette informazioni su altri contraccettivi, gli anelli, l'uso corretto del preservativo, sia mai, il preservativo femminile, il famoso diaframma viene venduto insieme allo spermicida in tutta Europa se una ragazza lo chiede a Milano se lo deve ordinare con estrema difficoltà. Per cui cosa vorrei lanciare qui perché ci sia una corretta applicazione della 194? Che parte da una lotta che occorre fare perché anche all'interno di un'università specialistica ci sia una corretta formazione sulla contraccezione, sul corretto uso di questi metodi, come ci debba essere una corretta informazione e formazione sulla interruzione di gravidanza come atto chirurgico pienamente di grande dignità. Non deve essere una vergogna per un medico fare un'interruzione di gravidanza. Grazie di essere qui.